Una coppia di ragazze sarebbe stata violentemente aggredita a Bari con insulti omofobi e trasfobici da loro coetanei al Parco Rossani al punto da rendere necessarie le cure ospedaliere. La denuncia è pubblicata sulla pagina facebook del Bari Pride che si è tenuto sabato scorso nel capoluogo con un corteo che ha coinvolto 10.000 persone. Con il post è pubblicata anche la foto che mostra la medicazione alla testa della ragazza rimasta vittima dell'aggressione secondo quanto riportato nel post. Non possiamo rimanere in silenzio davanti alla violenza prevaricatrice che si sta diffondendo nella nostra città e scritto nel post si denunciano anche altri episodi di aggressioni verbali e non che si sarebbero verificati in seguito alla parata del Pride. Un'emergenza educativa che non deve essere trascurata nella nostra città e detto ancora non c'è spazio per la violenza. Come organizzazioni sociali baresi pur riconoscendo che alcune zone ad oggi hanno bisogno di una maggiore tutela riteniamo che la risposta a questi episodi non possa essere soltanto di tipo securitario con lo schieramento di forze dell'ordine per le strade. Riteniamo anzi che anche per le forze dell'ordine sia necessario portare avanti momenti di formazione sempre più capillari. Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Bari Antonio De Caro che ha presa la notizia dell'aggressione e ha richiesto l'intervento della prefettura e delle forze dell'ordine oltre quello della polizia locale che sta acquisendo le immagini delle telecamere. Questa aggressione non può e non deve restare impunita. dobbiamo dare subito un segnale di presenza e di vicinanza alle famiglie conclude il primo cittadino.